Un elemento che secondo me fa capire l'anomalia di questa vicenda, questa società che ha avuto questo incarico, che poi ha passato a un'altra società che si presume fosse più o meno la stessa società, però con un nome diverso, per 23 anni ha avuto la maggioranza del capitale schermato da una fiduciaria, cioè non si sapeva chi c'era dietro. Chi c'era dietro? E io mi domando come sia stato possibile che l'ente pubblico più grande di questo paese che gestisce una quantità di soldi mostruosa e che dovrebbe essere una casa di vetro, come sia stato possibile che abbia consentito di non sapere chi fossero i proprietari di questa azienda per 23 anni? Ti dico un'altra cosa, che nel 1990, quando è incominciata questa storia, è uscita una legge che diceva che non si potevano affidare incarichi per opere pubbliche a società che avevano il capitale in una fiduciaria? Tu dici l'opera pubblica, cosa sono? Mattoni e cemento, non è certamente un archivio dell'Inps, ma nel 2006 il codice dei contratti pubblici ha esteso questo divieto a tutte le forniture pubbliche. Quindi dal 2006 al 2013, quando sono stati poi costretti a dire chi c'era dietro questa società, sono stati una situazione di illegalità conclamata.